Ecco un'altra angolazione della Fontana già ripulita ma è rimasta come avete visto dal precedente video scheggiata in alcune parti gravemente, Fontana sembra travertino appunto mi sembra fatta proprio dal Bernini mi stavano suggerendo, quindi insomma uno dei più grandi architetti della storia scultore, architetto, è stata ripulita però è transennata, parecchi curiosi ecco ci sono anche dei fiori come è morta la civiltà, vedete dei fiori in cui si dice appunto per un lutto è morta la civiltà ecco ci sono evidentemente degli esperti del comune, dei periti che esaminano i danni e c'è molta curiosità oggi qui the day after vedete si sta ripulendo si ripulisce quindi parecchi curiosi e possiamo vedere anche quest'altro video